Il piano integrato per il Parco Regionale della Maremma è stato approvato dal Consiglio Regionale della Toscana. Il provvedimento ha ottenuto 18 voti favorevoli da parte del Partito Democratico Italia Viva, mentre Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle si sono astenuti. Il piano rappresenta lo strumento per attuare le finalità del Parco e comprende sia atti di pianificazione che di programmazione. Le principali innovazioni del piano includono un maggior livello di protezione attraverso l'espansione delle zone boschive, per creare nuove foreste e la conservazione delle aree agricole che ospitano una significativa biodiversità. Oggi in aula abbiamo votato all'adozione per il piano regionale per l'enteparco della Maremma, un atto importante che è stato licenziato dalla quarta commissione ed è stato appunto portato in aula. Tra l'altro la quarta commissione, grazie al lavoro del suo presidente, la consigliera Lucia De Robertis, è anche andata personalmente al Parco della Maremma, ha preso contatti con quelli che sono il presidente, il consiglio direttivo, ma anche le istituzioni e i comuni che insistono. Il piano regionale di questo enteparco è un lavoro che ha richiesto diversi anni, è cominciato a giugno del 2019 e si è concluso praticamente ora, anche se ora si aprono i 60 giorni per quelle che sono le osservazioni che poi la commissione dovrà in qualche modo verificare. Diciamo che ha una sezione di pianificazione, una sezione programmatrice. Nella pianificazione l'enteparco insiste su una vastità territoriale piuttosto importante, sono quasi 9 mila ettari di territorio e insiste su tre comuni, cioè Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello. Quindi ovviamente sono tante le istituzioni, le persone che sono interessate a questo piano. Ovviamente quello che si propone il piano intanto è di tutelare l'ambiente naturale che c'è, tant'è vero che ci sono delle aree destinate proprio a rimanere così allo stato naturale e altre invece che ci sono imprese all'interno di queste, vengono fatte anche nella programmazione, si pensa anche di sviluppare quello che è questa cosa naturalmente sempre in maniera sostenibile, in maniera che l'attività umana e la natura in qualche modo si debbano sintonizzare senza che l'una prevalga sull'altra. Tra l'altro Lente Parco è anche un'associazione che ha un bilancio positivo, ha un 25% di entrate che arrivano dalle sue attività, vi si fa trekking, si persa anche di fare, c'è una limitazione nell'entrata delle macchine sempre per la tutela dell'ambiente ovviamente, ma c'è anche l'idea di fare un percorso in bicicletta aiutando quello che è il turismo lento. Ovviamente il territorio dell'Alberese è un territorio conosciuto per essere una diciamo di quei gioielli naturalistici proprio della regione toscana. Sul piano del Parco della Maremma intanto è importante dire, mi fa piacere farlo, che la Quarta Commissione ha intrapreso un percorso di sedute sul posto, come è successo anche per quanto riguarda il Parco della Maremma, di valutazione e votazione degli atti, che ritengo molto positivo, perché anche in questo caso qui abbiamo colto quanto tutti i soggetti che in qualche modo partecipano della vita del Parco della Maremma ne determinano le decisioni. Tutti gli enti comunali e provinciali che ovviamente ne fanno parte hanno una comunità di intenti piuttosto marcata che va di pari passo anche con una capacità in termini di bilancio che spesso si è distinta rispetto agli altri parchi di cui di solito siamo chiamati a discutere. Penso alle Alpi Apuane e penso ovviamente al Parco Migliarino San Rossone. Nel caso del Parco della Maremma siamo parecchi passi più avanti e quindi anche il nostro approccio è un approccio positivo. Abbiamo però espresso un voto di astenzione perché essendo di fronte a un atto che al momento è esclusivamente adottato ma avrà poi la fase delle osservazioni e poi quella dell'approvazione definitiva, ci è sembrato più corretto attendere questo almeno l'ulteriore passaggio delle osservazioni per capire bene se quelle che erano le nostre valutazioni sono effettivamente corrette o dovessero essere ulteriormente modificate per strada. Per quanto riguarda il Parco della Maremma si tratta dell'adozione di un importante strumento di programmazione e pianificazione di quell'ente che è stato concertato con gli enti locali, cioè con i comuni come abbiamo potuto verificare svolgendo i lavori della Quarta Commissione direttamente presso la sede del Parco della Maremma diverse settimane fa, ovviamente si tratta di un'adozione, ci sono alcuni elementi che migliorano e probabilmente andranno a qualificare la promozione e la capacità del Parco di produrre reddito, ci sono una serie di interventi sulle infrastrutture, ci sarà comunque il tempo per i cittadini, per le imprese e per le associazioni per fare le osservazioni e quindi noi esprimeremo un voto di astensione in attesa naturalmente di capire anche l'atteggiamento del territorio su questo strumento di governo del territorio. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una mozione presentata da Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia che chiede alla Giunta di impegnarsi al massimo nel contrasto al fenomeno in aumento della zombie drug. Questa droga, a base di xilazina, è un sedativo veterinario che viene sempre più utilizzato per preparare dosi di eroina e fentanil. La mozione impegna la Giunta a collaborare con le forze dell'ordine, i servizi educativi e le associazioni di volontariato locali per informare, prevenire e sensibilizzare riguardo a questo crescente fenomeno. Una buona e bella pratica di unione di tutte le forze politiche in aula su questa mozione di Fratelli d'Italia che chiede una maggiore sensibilizzazione sul tema della xilazina, questo sedativo molto potente a uso veterinario la cui facile reperibilità e il basso costo lo vede impiegato per il taglio dell'eroina che continua a essere tra gli oppiace più diffusi in Europa e in Italia. È una sostanza che sostanzialmente consente appunto un risparmio che si traduce chiaramente in un'accessibilità economica maggiore per l'eroina con effetti però che sono devastanti. Le cifre negli Stati Uniti d'America parlano molto chiaramente, si parla di 100.000 vittime l'anno relativamente all'uso di questa sostanza e l'anno agosto abbiamo avuto la prima vittima in Italia in Sardegna. A questo punto la richiesta che abbiamo fatto è quella di sensibilizzare e informare assieme alle forze dell'ordine e in collaborazione con il nostro sistema sanitario locale ricordiamo che l'Istituto Superiore per la Sanità ha già decretato il livello 3 cioè quello per cui si riconosce il pericolo di morte dovuto all'uso di una sostanza per sensibilizzare sostanzialmente la popolazione su questa tematica. Chiaramente non dimentichiamo all'interno della mozione di fare un riferimento anche a tutte le nostre comunità di recupero impegnate nello sforzo di recupero di coloro che sono drammaticamente inseriti nella piaga e nella tossicodipendenza. Presentato in conferenza stampa al Media Center Sassoli di Palazzo del Pegaso il tradizionale presepe vivente di Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa che prenderà vita nelle piazze del Centro Storico della Cittadina sabato 23 dicembre a partire dalle 21 e 30. L'evento è organizzato dall'Associazione Palio dei Barchini e coinvolge numerosi figuranti e volontari. Una bella iniziativa che si svolgerà il 23 di dicembre a Castelfranco a Pisa in provincia di Pisa consentitemi di ringraziare il sindaco Gabriele Toti per essere qui insieme a noi una comunità che si riunisce intorno al Natale tante associazioni che insieme lavorano per mandare un messaggio di speranza il racconto di un'identità che è quella di Castelfranco e del suo modo di vivere il Natale. Per questo è bello che quel momento non sia un momento solo per chi vive a Castelfranco ma un momento in cui i cittadini della Toscana da tutta la Toscana possono andare a conoscere il presepe vivente di Castelfranco ma anche andare a vedere quanto c'è e quanta bellezza c'è in questo splendido borgo in provincia di Pisa. Sì, torna il domenica prossima, 23 dicembre una bella iniziativa organizzata al Comitato Paglio dei Barchini con le ruote di Castelfranco un'iniziativa importante perché è un richiamo per tante persone un'iniziativa importante per l'alto numero di persone che partecipano oltre 100 figuranti è un'iniziativa importante perché ci richiama quelli che sono i valori autentici del Natale è importante perché si svolge all'interno del nostro centro storico luogo centrale per quanto riguarda la nostra cittadina ed è importante perché vede il coinvolgimento di una realtà associativa che è assolutamente viva il Comitato Paglio dei Barchini si occupa appunto principalmente dell'organizzazione del Paglio dei Barchini con le ruote già è molto caratteristica dal nome, lo si capisce bene, la manifestazione e in più organizza tanti eventi durante l'anno ed oggi presentiamo appunto il presepe vivente che da diversi anni caratterizza questo periodo del Natale per la nostra cittadina noi come amministrazione comunale diamo l'aiuto, il supporto necessario per l'organizzazione e lo facciamo convintamente perché è estremamente importante sostenere una realtà associativa così viva, importante e qualificata qual è appunto il Comitato soprattutto in occasioni come queste iniziative che richiamano valori propri come è il Natale nel periodo che stiamo vivendo Quest'anno volevamo segnalare che siccome sono 800 anni da San Francesco che ha inventato il primo presepe vivente quest'anno il nostro presepe vivente che si svolge in quattro piazze tipiche di Castelfranco avrà anche delle piccole rappresentazioni di come Francesco ha ideato questa cosa e quindi ci saranno anche brevi rappresentazioni di un paio di minuti, tre minuti poi ci saranno dei cori, dei balli medievali insomma sarà un presepe vivente molto ricco quest'anno Presentato nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso il progetto Generazione News, un giornale online creato dagli studenti delle scuole superiori della Toscana l'idea è stata inizialmente proposta dai giovani attraverso le consulte provinciali degli studenti e il Parlamento regionale degli studenti ed è stata poi supportata dal Consiglio regionale della Toscana l'ufficio scolastico regionale, l'ordine dei giornalisti e le scuole stesse l'Istituto Superiore di Studi Sassetti Peruzzi di Firenze è stato designato come capofila del progetto Abbiamo sempre detto di dare più voce a chi ha meno voce attraverso Generazione News i giovani, i nostri ragazzi, nelle nostre scuole possono raccontare il loro punto di vista sul tempo che viviamo è uno spazio libero, è uno spazio aperto, è uno spazio di confronto è un luogo in cui provare a raccontare il presente e il futuro è un modo per dare autonomia e per noi, per poter ascoltare, per poterci confrontare un grazie al Parlamento degli studenti, un grazie alla consulta, un grazie all'ufficio scolastico regionale viviamo un tempo in cui siamo inondati da informazioni, da notizie poi trasformare tutto questo in qualcosa di credibile richiede che le persone analizzino quelle informazioni e le trasferiscano agli altri in maniera più credibile questo è il lavoro che i ragazzi e le ragazze stanno facendo a loro un grande in bocca al lupo e penso che ogni volta che si costruisca un giornale, un luogo aperto si costruisce libertà e noi abbiamo bisogno di vivere in un mondo libero ma innanzitutto è fondamentale avvicinare i ragazzi alla lettura indipendentemente dal mondo del giornalismo è chiaro che quando poi appassioni i ragazzi alla lettura il passo successivo è coinvolgerli nella nostra professione professione che in questo periodo, sapete, è bombardata da mille informazioni e credo che questo sia un progetto utilissimo per i ragazzi per drenare tutte queste informazioni che arrivano e elaborarle con le loro idee è chiaro che noi come ordine dei giornalisti la nostra funzione è quella di assistere di essere vicini alle loro esigenze e accompagnarli in questo percorso tra l'altro siamo molto sensibili all'informazione per i giovani e soprattutto con i giovani è da un paio di anni che come ordine facciamo un corso contro le fake news proprio rivolte a tutte le scuole ed è un corso che ha avuto molto successo siamo riusciti anche a espanderlo alle varie province della Toscana e ci sta dando risposte molto importanti e questo progetto va nel solco della informazione proprio rivolta ai ragazzi è chiaro che è un percorso che deve essere come ho detto prima aiutato ma noi siamo disponibili assolutamente a metterci a disposizione per qualunque tipo di informazione iniziativa che vorranno intraprendere per loro è uno strumento intanto per esprimersi e per tirare fuori la loro voce che in questo momento è veramente la cosa principale da augurarsi per loro più di qualunque altra cosa è un momento in cui il rischio è che si chiudano completamente in un'energia entropica e quindi esplodono all'interno quindi è veramente fondamentale che gli vengano dati gli strumenti per farsi ascoltare per elaborare quello che loro stanno vivendo che è tantissimo e oltre a questo è anche uno strumento secondo me per rapportarsi con il mondo per interpretarlo, per spiegarlo per imparare a comunicare quindi poi nel futuro per imparare a vivere a lavorare, a fare qualunque cosa il giornalismo è una forma di, per loro è quasi uno strumento per fare politica cioè per entrare in comunicazione fra di loro per coinvolgersi, per coinvogliare le energie quindi l'hanno scelto loro l'hanno scelto loro e quindi questo ci deve far riflettere fondamentalmente funzionerà con il gruppo fondatore di questo progetto che sono una ventina di ragazzi che da due anni lavorano a questo obiettivo dopodiché in ogni città anche attraverso i presidenti delle consulte si formeranno delle piccole redazioni divise anche per argomenti per la scelta che ogni ragazzo individuerà quindi gli argomenti che vorranno seguire e il territorio e poi ci sarà qualcuno che farà la quadra e si farà un'operazione di sintesi che sarà a Firenze alla scuola Sassetti Peruzzi che è un po' la scuola capofila di tutte queste, di questa cordata da cui nasce una scuola molto viva da cui con un preside molto attento e molto aperto alle novità che guida un po' tutte le altre scuole Per l'ufficio scolastico regionale che ha sostenuto questo progetto anche grazie all'accordo con l'ordine e la fondazione dei giornalisti toscani e con il Consiglio regionale toscano è quello di promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi il promuovere le competenze del saper si orientare in un mondo dell'informazione molto ampio in cui non è semplice poi saper individuare ciò che è giusto da ciò che non è giusto ciò che è vero da ciò che non è vero e quello di poter visto che l'idea è nata all'interno delle consulte degli studenti quello di dare gambe ad un'idea importante potente come quello di fare un giornale fatto dagli studenti rivolto agli studenti nato fuori dalla scuola ma a vantaggio e per ricadute importanti dentro le istituzioni scolastiche Allora io parto col dire che in questo momento sono molto contento e anche un po' emozionato perché è reputo fondamentale che in questo caso le istituzioni si prendano il compito in qualche modo di emancipare i ragazzi anche sotto un aspetto di vita politica perché oggi purtroppo vediamo molto spesso i ragazzi lasciati fuori dalla partecipazione politica consapevole e questo giornale penso che sia un deciso passo in avanti verso una scuola invece che sia caratterizzata dall'inclusione quella vera e dalla partecipazione alla vita politica che può derivare solo da un'emancipazione vera ed effettiva Siamo una rappresentanza studentesca il progetto nasce dal coordinamento regionale delle consulte in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana e per l'appunto abbiamo creato questo progetto abbiamo dato la possibilità a tutti i studenti della regione toscana per l'appunto di partecipare a questo bellissimo progetto Per ora siamo arrivati a 120 iscritti totali però insomma è un lungo percorso ci siamo attivati da poco in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale e il consiglio regionale quindi ci stiamo avviando e la cosa più bella secondo me è che è un progetto che parte dagli studenti dal volere degli studenti e le istituzioni che rappresentiamo che siamo e con cui collaboriamo ci hanno appoggiato e insieme stiamo collaborando e quindi è un primo progetto effettivo di collaborazione che si porta avanti e si fa grazie a tutti grazie a tutti